buongiorno io e simone siamo appena arrivati in una nuova zona staremo qui per 4 5 giorni ci troviamo ad un pang più o meno a tre ore da dove stavamo prima più a sud siamo qui per vedere una nuova realtà qui c'è una comunità di bambini vivono 50 bambini in questa più o meno grande struttura e vivono con un altro padre saveriano si chiama padre alessio ed è una realtà molto bella e interessante no 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 Questi bimbi sono qui perché hanno problemi familiari alle spalle chi magari è molto povero e quindi non può prendersi cura dei bambini o sono profughi oppure semplicemente non hanno una famiglia.